Firenze, un museo a cielo aperto, la culla del rinascimento, l'epoca dove l'arte diventa specchio del potere e il potere genera arte. Nella Manhattan e la Wall Street dell'Europa, il cinema celebra Botticelli, uno dei suoi artisti simbolo. Botticelli trascende il tempo e il linguaggio, è parte del nostro immaginario collettivo. È un grande designer, questa straordinaria abilità lo ha reso famoso nel quindicesimo secolo ed è evidente ancora oggi. Ritengo Botticelli il più grande pittore che si è mai esistito al mondo. Il fascino eterno dei suoi capolavori, l'inventore della nuova bellezza. Arriva al cinema, il film è evento. Botticelli infrange le barriere del tempo e dello spazio per entrare per sempre nell'immaginario collettivo. Botticelli e Firenze, la nascita della bellezza. Al cinema solo il 24, 25 e 26 gennaio. Info e biglietti su nexodigital.it